ariete siete decisi a intraprendere un importante progetto insieme ad un amico ma non sapete da che parte cominciare procedete un passo alla volta toro dovreste arricchire il vostro guardaroba ma se le vostre risorse sono scarse non comprate vestiti alla rinfusa fate i vostri acquisti in modo razionale gemelli il vostro comportamento insolito potrebbe confondere la gente alcuni addirittura potrebbero offendersi cancro la giornata vi riserverà delle sorprese ma riuscirete ad adattarvi facilmente ai cambiamenti imprevisti purché siate elastici leone la vostra popolarità è in aumento un nativo dell'acquario potrebbe farvi un'offerta che non potrete rifiutare la serata sarà caratterizzata da importanti sviluppi vergine il vostro livello di tolleranza potrebbe essere insolitamente basso perciò limitate i vostri contatti con gli altri così da evitare conflitti bilancia tutto sembra portare ad una determinata conclusione ma voi non siete ancora convinti effettuate ulteriori indagini non trascurate nessun elemento scorpione riceverete aiuto da chi meno ve lo aspettate un nuovo sodalizio professionale potrebbe aprirvi molte promettenti prospettive sagittario la pazienza sarà la vostra arma vincente per battere la concorrenza sappiate attendere il momento propizio per cogliere tutti di sorpresa capricorno giornata ideale per negoziare condizioni a voi favorevoli le vostre controparti saranno insolitamente arrendevoli acquario potreste avere dei problemi con qualcuno che cerca di imporvi un po troppo aggressivamente la sua autorità evitate lo scontro frontale pesci il vostro contributo sarà fondamentale decreterà il successo di un progetto di squadra rimboccatevi le maniche e datevi da fare